Una storia particolare, ambientata nella tragica realtà dei campi di sterminio, è quella raccontata da Franco Forte e Scilla Bonfiglioli nel libro La bambina e il nazista, edito da Mondadori. È una storia che io ho davvero costruito partendo da dati veri, da una storia che si ispira a un fatto vero accaduto, è una storia piuttosto particolare, strana, me ne rendo conto, di un nazista che dall'interno, dal sistema nazista, dal sistema sterminio degli ebrei, in realtà si spende, dà da fare, mette in gioco la propria vita e tutto ciò in cui crede per salvare una vita innocente, la vita di una bambina di otto anni che ha solo una colpa, quella di essere ebrea. Questa storia è tremenda perché è collocata all'interno di una ricostruzione vera. Tutto quello che io e la mia coautrice Scilla Bonfiglioli scriviamo è la ricostruzione di quel mondo, dei campi di sterminio, dei campi di concentramento in Polonia, due campi di concentramento soprattutto, che hanno visto dei fatti tremendi, terrificanti. Crediamo di essere riusciti a dare una piccola spiegazione di quello che può essere caduto in questo periodo, ma soprattutto di aver raccontato una storia molto, molto cruda, molto, molto dura, ma con un soffio di speranza che dovrebbe convenerci a tutti. È difficile trovare storie di nazisti che si sono ribellati al sistema. Il nostro protagonista è dentro, è l'interno, inizialmente in maniera un po' decentrata, si occupa di logistica, una piccola cittadina fuori dalla guerra, ma poi viene catapultato dentro nel mondo terrificante, questo girone infernale dantesco dei campi di concentramento. E lì scoprirà che il mondo è molto diverso e lui lotterà per cercare di far vincere l'umanità nei confronti della disumanità. Ancora oggi però esistono persone e movimenti che si rifanno al nazifascismo. A me è davvero sempre incredibile che ancora ci sia qualcuno che nega. Di fronte a questo negazionismo, credo che la cosa migliore sia banalmente cercare di raccontare delle storie, far capire che cosa hanno passato alcune persone in quegli ambienti, in quel periodo storico, in quel momento. E questa è una storia che, ripeto, anche se con un anelito di speranza, perché cerchiamo di dare una speranza a tutti, è fatta soprattutto per non dimenticare, perché non bisognerebbe mai dimenticare queste certe cose che sono accadute.